Ulteriore balzo dei nuovi contagi giornalieri in Abruzzo. Sono 434 i casi di positività riscontrati nelle ultime 24 ore di età compresa tra 7 mesi e 100 anni, a fronte di quasi 4.000 tamponi processati con una percentuale di incidenza prossima all'11%. Di questi nuovi casi 120 fanno riferimento a tracciamento di focolai già noti. I positivi con età inferiori ai 19 anni sono 70, di cui 24 in provincia dell'Aquila, 10 in provincia di Pescara, 4 in provincia di Chieti, 32 in provincia di Teramo. Sono complessivamente 9.193 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri scende a 2 il numero dei pazienti deceduti, una 87enne di Pescara e una 86enne di Chieti. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3.630 dimessi gueriti, più 12 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 5.029, più 420 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 276.881 test. 306 pazienti, più 22 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 26, più 4 rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 4.697, più 394 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Dell'aumento odierno dei casi positivi, 154 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 44 a quella di Chieti, 51 a quella di Pescara, 170 a quella di Teramo, invariato il dato dei fuori regione, più 15 i casi per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Nelle ultime ore suscita poi scalpore quanto sta accadendo a Isola del Gran Sasso, paese in provincia di Teramo, dove al momento si registrano 161 casi di positività su 4.630 abitanti, pari al 3,5% della popolazione. Il dato si avvicina a quello di Castiglione-Messerraimondo, comune terramano della Valfino, a lungo inserito in zona rossa in primavera. Considerata la località dei record dell'emergenza in Abruzzo, si stima che lì il 3,6% degli abitanti abbia contratto il virus. L'impennata dei contagi a Isola del Gran Sasso riguarda esclusivamente il mese di ottobre. A settembre si è registrato un solo caso, ben 58 i contagi accertati nelle ultime ore, che portano in totale appunto a 161 dal 1 di ottobre ad oggi, 12 i pazienti che hanno meno di 19 anni.